aspiranti maghi apre oggi per voi la scuola di magia venite con me per imparare a creare nuovissime pozioni esplosive pozioni esplosive è un gioco da due a quattro giocatori è adatto dagli otto anni in su è una partita dura dai 30 ai 45 minuti l'editore italiano è genos game vediamo un po che cosa ci aspetta in questa ricchissima scatola come prima cosa ecco il dispenser dove andranno inserite tutte le biglie ovvero gli ingredienti poi abbiamo il banco degli studenti dove andranno posizionate le pozioni abbiamo tantissimi tipi di pozioni di diverso tipo diverso colore e sul retro c'è la ricetta poi abbiamo i gettoni abilità e i gettoni aiutino il gettone primo giocatore è un pacchettino di biglie di riserva cominciamo a giocare faremo un setup per due giocatori il giocatore che più recentemente ha bevuto una bibita gassata sarà il primo giocatore prenderà la tessera primo giocatore e la dispone accanto a sé esistono otto tipi diversi di pozioni si rimuovono due tipi di pozioni e si rimettono nella scatola ogni giocatore prende due pozioni iniziali quelle contrassegnate dalla stellina e le mette sul proprio banco ogni pozione ha due facce sulla prima c'è il tipo di pozione e il valore della pozione una volta che è stata completata sull'altra faccia c'è invece la ricetta ovvero quante biglie devono essere prese per completare la pozione e di quali colori devono essere tutte le pozioni rimaste vengono messe al centro del tavolo disposte in cinque mazzetti con la faccia della ricetta verso l'alto per una partita due giocatori si posizionano quattro gettoni abilità e gettoni aiutino ora si può cominciare in questo gioco dovrete raccogliere gli elementi ovvero le biglie per costruire le vostre pozioni ad esempio per completare questa pozione avrete bisogno di quattro biglie rosse e due biglie gialle il completamento di una pozione da dei punti che sono indicati sulla pozione stessa alla fine del gioco chi avrà più punti vincerà ci sono altri modi di guadagnare punti oltre a quelli riportati sulle pozioni ma ve li spiego via via che proseguiamo nel gameplay per prendere gli elementi banalmente ogni giocatore nel suo turno prenderà una biglia dal dispenser se però l'estrazione di una biglia causerà la collisione di due biglie dello stesso colore si avrà un'esplosione e il giocatore potrà prendere anche le biglie cosiddette esplose per esempio in questo dispenser se il giocatore 1 prendesse questa biglia rossa la sua estrazione causerebbe la collisione di queste due biglie nere e quindi il giocatore 1 oltre alla biglia rossa prenderebbe le due biglie nere in pratica succede questo poiché l'estrazione delle due biglie nere non ha causato la collisione di due biglie dello stesso colore la presa del giocatore 1 finisce qui se invece ci fossero state collisioni di altre biglie dello stesso colore il giocatore 1 avrebbe continuato a prendere fino all'esaurirsi dell'esplosione il primo giocatore quindi mette i suoi ingredienti nella prima pozione tocca ora al giocatore 2 che decide di prendere questo ingrediente come potete immaginare togliere questo elemento farà esplodere le biglie gialle circostanti e quindi il giocatore 2 prenderà anche quelle posiziona la biglia rossa presa due biglie gialle l'ultima biglia rimasta non trova posto sulle pozioni ma può essere messa nella beuta questa è la beuta delle riserve e in ogni momento le biglie qui presenti potranno essere utilizzate per completare una pozione presente sulla braccia nel turno successivo il giocatore 1 prende questa biglia blu innescando l'esplosione delle biglie rosse biglie che posiziona nelle sue pozioni il giocatore 1 ha completato la sua prima pozione quindi svuota le biglie e le ributta nel dispense e posiziona la pozione completata a faccia in giù sotto la sua plancia e rimpiazza la pozione terminata con una nuova presa a sua scelta dal centro del tavolo a questo punto il giocatore 2 decide di prendere questa biglia nera che farà esplodere quattro biglie e posiziona la biglia nera sulla pozione due biglie gialle nella riserva e le biglie avanzate saranno ributtate nel dispense dopo alcuni turni è il momento del giocatore 2 che decide di prendere questa biglia nera ovviamente prendere questa biglia nera causerà l'esplosione delle altre biglie nere e poi di conseguenza anche di quelle rosse quindi il secondo giocatore può spostare le biglie gialle dalla sua riserva alla pozione posizionare le biglie che ha preso e mettere quella che avanza nuovamente nella riserva una pozione è stata completata e viene aggiunta alla collezione del giocatore 2 durante il proprio turno ogni giocatore può decidere di prendere un aiutino l'aiutino permette di prendere una biglia qualsiasi dal dispenser oltre a quella della presa normale fare questa azione però costerà due punti quindi chi chiede un aiutino prenderà questo gettone lo poserà sotto la sua plancia e lo considererà alla fine ogni pozione completata permette di sprigionare un potere speciale per esempio questa pozione permette di utilizzare gli ingredienti presenti nella propria riserva in qualsiasi pozione indipendentemente dal colore delle biglie quindi il giocatore 1 potrà decidere in qualsiasi momento di utilizzare questa pozione la girerà a testa in giù e posizionerà le biglie rosse della sua riserva e a qualsiasi punto egli decida una volta bevuta la pozione non potrà più essere riutilizzata e rimarrà a testa in giù fino alla fine della partita quando un giocatore per ogni tipo di pozione colleziona la terza pozione dello stesso tipo come in questo caso guadagna un gettone abilità fra quelli disponibili al centro del tavolo e lo posiziona accanto alla sua plancia un altro modo per guadagnare un gettone abilità è collezionare 5 tipi diversi di pozioni in questo caso giocatore 2 ha 5 pozioni diverse e guadagna un gettone abilità quando viene preso l'ultimo gettone abilità si innesca alla fine della partita quindi tutti i giocatori completano il proprio turno fino a raggiungere di nuovo il primo giocatore e la partita finisce e si procede col contare i punti il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio di ogni singola pozione completata più il punteggio di ogni gettone abilità conquistato meno il punteggio di ogni aiutino utilizzato chi fa più punti vince la partita allora questo è il family game per eccellenza mette d'accordo tutti grandi, piccoli fa divertire fa pensare le regole sono semplici si spiegano in pochissimi minuti e secondo me sono anche abbordabili un pochino prima degli otto anni il tema magico piace sempre a tutti incanta i bambini e francamente incanta anche un po' noi grandi soprattutto quelli un po' nerd come me e poi forse forse ricorda anche qualche videogioco tipo puzzle bubble insomma qui fondamentalmente è richiesto colpo d'occhio e un po' di analisi della situazione ma non incontrerete nessun problema a coinvolgere i vostri bambini fatemi sapere se la spiegazione è stata chiara l'inquadratura è piccola i materiali sono tanti ma spero comunque di essere riuscita a farvi capire la meccanica del gioco come sempre aspetto i vostri commenti belli o brutti che siano non importa ma fatemi sapere cosa pensate di questi suggerimenti e se vi sono stati utili su blog trovate una recensione un po' più estesa con anche tutte le abilità richieste e quelle che si possono sviluppare qui sotto trovate tutti i link alle mie pagine e pulsantini iscriviti per non perdere le prossime puntate iscrivetevi allora alla prossima volta al prossimo gioco e alla prossima magia grazie a tutti grazie a tutti